E' ufficiale smantellato il distaccamento della polizia stradale di Domodossola, chiusi gli uffici di via Romita e i cinque agenti in servizio fino ai giorni scorsi ora sono stati trasferiti alle dipendenze della polizia di frontiera e della polfer di via Bonomelli. La chiusura del distaccamento non è certo, una doccia fredda per la città. Della questione si discute da tempo, l'argomento è tornato di attualità in maniera ciclica. L'allarme lanciato puntualmente dalle segreterie delle organizzazioni sindacali di categoria si sono contrapposte sempre le promesse politiche da destra a sinistra. Tutti garantivano il mantenimento, anzi anche il potenziamento. Promesse che la realtà odierna però disatteso. Lo scorso anno, a febbraio, proprio per perorare la causa domese, il sindaco Lucio Pizzi, accompagnato dai colleghi dei comuni di Ceva e Borgomanero, con il sostegno del governatore del Piemonte, Alberto Cirio, ha anche incontrato il ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese. È stato questo l'ultimo tentativo in extremis degli amministratori piemontesi per salvare i presidi cittadini della Polstrada. Nel caso specifico, Pizzi ha sottolineato l'importanza della presenza della Polstrada in un territorio di frontiera, quale l'Ossola. D'ora in poi, il controllo del territorio, anche ossolano, passerà di mano ai colleghi del comando di Verbagna, su cui pesano già il Verbano e il Cusio. Vedremo nel tempo come funzionerà la nuova organizzazione. Nel territorio del Vicio è vasto, uno o due pattuglie giornaliere, in partenza da Verbagna, per coprire una superficie che va da Cannobio a Formazza. Mi pare pochino il commento di Domenico Gallotti, della segreteria del sindacato SIULP-VCO. Il sindacalista aggiunge ancora, non ci hanno ascoltato, così sono state disperse importanti professionalità, pensando che rilevare un incidente o gestire il traffico non siano situazioni facili. A Domodossola, dice ancora Gallotti, alcuni colleghi hanno prestato servizio nella postrada per 22 anni, persone formate che ora dovranno ricominciare da capo con altri servizi. Uno spreco per tutti.